Torino e Pinerolo si preparano ad accogliere il Tour de France. Nell'atrio del Grattacielo della Regione Piemonte è esposto uno dei trofei della Grand Boucle, quello del Grand Depart, che accompagna la corsa nelle prime tre tappe tutte in Italia. A presentare il trofeo alla stampa sono stati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco metropolitano Stefano Lorusso. Il trofeo resterà in Piazza Piemonte fino a giovedì 27 giugno, mentre da venerdì 28 a domenica 30 sarà esposto a Palazzo Madama, ospite del Comune di Torino. Lo start dell'edizione numero 111 della Corsa Gialla è in programma sabato 29 giugno a Firenze per onorare la memoria di Gino Bartali. Domenica 30 la seconda tappa, la Cesenatico Bologna, sarà dedicata a Marco Pantani. Sarà invece dedicata a Fausto Coppi la Piacenza Torino di 230 chilometri di lunedì 1 luglio, con il passaggio a Tortona in onore del campionissimo, un suggestivo percorso fra Monferrato, Langhe e Roero, l'ingresso nella città metropolitana di Torino a Carmagnola, i passaggi a Carignano, Piobbesi Torinese, Vinova e Stupinigi, l'arrivo in corso Galileo Ferraris a due passi dallo Stadio Grande Torino. La Piacenza Torino sarà la tappa più lunga della storia della Corsa Gialla e sarà seguita a martedì 2 luglio dalla Pinerolo Valois, che segnerà l'ingresso in Francia della Carovana del Tour attraverso il colle del Monginevro e dopo aver superato la salita del Sestriere.